Buonasera e bentrovati ai telespettatori di Millibar dopo una parentesi che si è occupata di altri temi abbiamo parlato nelle ultime due puntate nella penultima di corretta alimentazione la scorsa settimana una puntata che ha avuto molto successo siamo andati a casa di una ragazza disabile per spiegare la sua condizione la condizione di tantissime altre persone che vivono in quella situazione delle esigenze della necessità soprattutto impellente di una legge sia nazionale che regionale che riconosca il ruolo dei caregiver cioè di quelle persone che all'interno della famiglia si prendono cura di queste persone disabili adesso ritorniamo nel nostro terreno classico e congeniale riprendiamo una tappa con questa ulteriore tappa la nostra marcia di avvicinamento verso le elezioni regionali che si terranno nella primavera del 2018 c'è anche una data ipotetica vedremo se poi verrà confermata quella del 4 marzo il famoso 4 marzo quello della canzone di Lucio Dalla vedremo adesso chi verrà concepito in quella data il tema della trasmissione di questa sera è partiti o movimenti perché questo? per capire se è ancora e c'ha ancora un senso valida l'opzione classica centrosinistra centrodestra oppure se come da più parti si invoca sia venuta l'ora di schieramenti trasversali si parla molto in funzione regionale di un governo prossimo venturo di salute pubblica capace di sgombrare le macerie devastanti di questi ultimi 5 anni e rimettere il Molise in carreggiata per fare questo molti fanno appello alle migliori intelligenze ovunque esse si trovino con chi ne ragioniamo questa sera? ne ragioniamo insieme ad Antonio Di Brino consigliere comunale a Termoli e segretario regionale di direzione Italia bentornato Di Brino e lo facciamo insieme ad un ospite che è per la prima volta qui a Millibar e quindi gli diamo un benvenuto particolarmente gradito insieme a Nicola Lanza del Movimento Laboratorio Progressista insieme a me e a loro come di consueto Antonio D'Ambrosio vediamoci adesso la scheda che introduce la trasmissione e poi cominciamo la nostra conversazione partiti o movimenti sarà questo uno dei tanti temi che accompagneranno la prossima campagna elettorale in vista del rinnovo del Consiglio regionale e della scelta del prossimo Presidente della Regione le forme di aggregazione politica e sociali sono mutate nel corso del tempo a partire dal crollo delle ideologie e hanno cercato con molta fatica a dire il vero di assumere nuove sembianze quello che è venuto fuori è spesso un'aggregazione costruita ad uso e consumo di un leader se non in alcuni casi come quello emblematico di Forza Italia un partito padronale senza Berlusconi che se l'è inventata di sana pianta Forza Italia non avrebbe probabilmente un futuro ma il fenomeno è più vasto e si estende anche al resto dell'arco costituzionale il PD a trazione renziana ne è un esempio dietro alla scissione operata da Bersani e Soci e la costituzione di articolo 1 movimento democratico e progressista è indubbio che si cieli anche una fortissima allergia verso Matteo Renzi una sorta di Berlusconi con 40 anni in meno alla deriva del partito personale non è estraneo il Molise Michele Iorio e Paolo Di Laura Frattura i due contendenti alle ultime elezioni regionali ne sono una testimonianza Direzione Italia per il primo e il Molise di tutti per il secondo rappresentano dei contenitori tagliati e cuciti affinché siano abiti a taglia unica per l'uno e per l'altro vi sono tuttavia battaglie trasversali che in questi anni hanno dato la possibilità di espressione ad un mondo variegato e diverso che si è ritrovato attorno a temi centrali per i cittadini e le istituzioni il movimento referendario che si è opposto alla modifica della Costituzione quello in favore dell'acqua pubblica e quello per la sanità pubblica di qualità ne sono un esempio uomini e donne di estrazione ed espressioni diverse che si sono ritrovati uniti attorno ad un unico obiettivo la stessa cosa potrebbe anche capitare alle prossime elezioni regionali da più parti si leva la richiesta di un'aggregazione di salute pubblica capace di bonificare il Molise dalle tossine che in cinque anni il governo Frattura e il centro-sinistra che lo ha sostenuto hanno prodotto per questo tuttavia occorrono i numeri allora partiti o movimenti qual è l'alternativa se alternativa deve essere oppure il laboratorio Molise potrà sperimentare un'alleanza tra le due forme tenendo insieme verso un unico obiettivo sia i partiti che i movimenti? ecco questa era la nostra scheda e tra pochissimo tra qualche minuto ci addentreremo nel tema partiti o movimenti però non possiamo prescindere dall'attualità attualità che si lega chiaramente allo scenario politico in movimento lunedì scorso il direttore di questa televisione vittima di una carneficina giudiziaria avviata dal presidente della regione Molise Paolo di Laura Frattura ha tenuto una conferenza stampa nel corso della quale ha reso noto le motivazioni che hanno portato il giudice del tribunale di Bari Antonio Diella ad assolvere con formula piena sia lei sia il magistrato Fabio Papa accusati ingiustamente dal presidente della regione di un ricatto ai propri danni questo pone a detta di molti e anche a detta di chi vi parla in questo momento il presidente della regione fuori dalla Costituzione a norma dell'articolo 54 che richiede disciplina e onore per l'esercizio delle funzioni pubbliche egli è fuori dalla Costituzione perché disciplina e onore sono stati ampiamente i limiti di queste due categorie sono stati ampiamente superati da questa vicenda il presidente è addirittura indagato per calunnia insieme al proprio testimone l'avvocato Salvatore Di Pardo dalla procura della Repubblica di Bari c'è stato a seguito di questa conferenza stampa c'è stata una presa di posizione ben precisa da parte del movimento capeggiato da Massimo Romano coscienza civica e anche da altri sindaci per carità ma Massimo Romano diciamo è l'esponente più in vista di coscienza civica che ha diramato una propria nota e ha fatto un ragionamento molto semplice si proponga in consiglio regionale una mozione di sfiducia non tanto per fare la conta per mandare a casa frattura perché egli dispone di 11 voti sui 21 disponibili ma per provocare una discussione una mozione uno strumento tecnico è un atto di un'assemblea legislativa che serve a questo a provocare una discussione quindi a far comprendere esattamente ai molisani come la pensino i consiglieri regionali su questa vicenda ovvero se frattura debba o meno rassegnare le dimissioni dopo la pubblicazione di queste motivazioni che fanno letteralmente a pezzi la credibilità del presidente della regione allora Di Brino comincio con lei che è il segretario regionale di direzione Italia che ha poi in Michele Iorio il suo massimo esponente Michele Iorio è in corsa per la presidenza di questa regione quindi chiedo a lei un punto di vista su questa vicenda e se sia necessario o meno che in consiglio regionale qualcuno si attivi e presenti una mozione di sfiducia nei confronti del presidente Frattura beh rispetto a questa vicenda io credo che notizia recentissima che il presidente della Valle d'Aosta si è dimesso perché condannato per calunnia quindi mi sembra indagato per calunnia quindi mi sembra che abbiamo già un esempio tangibile che dà una risposta chiara e concreta alla sua domanda cioè sarebbe opportuno che Frattura a questo punto si dimettesse ovvio che conoscendolo ormai all'ambicato al potere da quasi cinque anni e nonostante tutto quello che sia scaduto è ancora lì senza che non abbia nemmeno come dire la dignità di giustificare i suoi comportamenti credo che una una posizione una presa di posizione politica in consiglio regionale sia assolutamente necessaria rispetto a questa vicenda io non ancora riesco a confrontarmi con con il presidente Iorio e ritengo che lo farò insomma nei prossimi giorni se non addirittura domani per verificare anche la sua riflessione su questa vicenda ha ragione lei quando dice che non è per fare una conta ma credo questo punto sia una questione etica prima ancora forse che morale o meglio morale prima ancora che etica tuttavia in genere quando si fanno delle emozioni di sfiducia per la mia per l'esperienza politica e politico istituzionale che ho fatto si ha sempre il timore che una mancata riuscita della mozione di sfiducia possa in qualche modo rafforzare la persona a cui si tenta e che si tenta di sfiduciare pur tuttavia ci sono dei momenti delle ragioni che questa questa perplessità dovrebbe far superare e questa credo sia una motivazione assolutamente valida è ovvio che ci vuole un'iniziativa da parte di qualche o di un consigliere regionale torno a ripetere forse già domattina mi confronterò con il presidente Iorio e valuteremo insieme la possibilità di eventualmente porre in essere un'iniziativa di questo tipo tra l'altro mi auguro che se l'iniziativa venga posta poi abbia anche la giusta riuscita anche se insomma chiedere ai consiglieri regionali di votare una mozione di sfiducia che li manda a casa è come chiedere a Giovanna D'Arco di raccattare legna per accendere il falò quindi credo che sia difficile che una mozione quindi dobbiamo innanzitutto informare chi ci sta ascoltando sulla difficoltà della riuscita della mozione però un gesto un sussurto politico rispetto a quello che sta accadendo insomma sia assolutamente necessario grazie Di Brino Nicola Lanza anche a lei pongo la stessa domanda Di Brino giustamente pone in evidenza la riuscita in realtà più che la riuscita in questo caso una mozione serve a chiarire il pensiero dei consiglieri regionali noi abbiamo un consiglio regionale muto su alcuni temi è un tema questo della giustizia e di un presidente di regione che ha tentato di mandare in galera non ai giardinetti due persone che il tribunale ha dichiarato innocenti è un tema che richiede una discussione ed è chiaro soprattutto in prospettiva delle elezioni regionali perché molte facce molti nomi e molti cognomi li vedremo nuovamente in corsa allora adesso è l'ora di capire come la pensano ripropongo a lei le do nuovamente il benvenuto lei ha fatto molte battaglie con il movimento laboratorio progressista di cui è parte poi ci addentreremo nella discussione ma chiedo anche a lei un pensiero su questo argomento la regione molise si è costituita parte civile in un processo contro la giornalista di tele molise e il pm papa io ritengo che sia doveroso una discussione all'interno del consiglio e ritengo che sia doveroso da parte dei consiglieri che sostengono questa maggioranza porre fine in questo momento al consiglio regionale succederà non succederà questo lo vedremo se se all'interno del consiglio regionale le opposizioni provvederanno a porre il tema della questione di sfiducia al presidente Frattura Antonio D'Ambrosio riformulo a beneficio dei nostri telespettatori anche a te la domanda ne abbiamo parlato e trattato la questione in altre puntate di Millibar il tuo pensiero è stato sempre chiaro su questo argomento ma nessuno né tu né io nessuno tra i molisani avevano conosciuto le motivazioni del giudice di Ella adesso queste motivazioni sono note e fanno a pezzi la credibilità di un presidente di regione la mozione di sfiducia sì no e perché la premessa è che la sentenza è chiara il dispositivo che è stato emesso e le motivazioni non lasciano dubbi il magistrato il giudice ha stabilito che a Bari due persone uno il presidente della giunta regionale e il suo testimone che il suo avvocato hanno detto una bugia hanno detto del falso coinvolgendo in questa azione la rappresentanza istituzionale come la regione molise e la presidenza del consiglio dei ministri allora Renzi e non è secondario questi due non sono secondari questi due aspetti perché due pezzi dell'istituzione devono conseguentemente prendere posizioni perché ci sono questi due pezzi di istituzioni che ci rappresentano i molisani e gli italiani di fronte a una sentenza del genere c'è la pretesa che queste due istituzioni dicano qualcosa come c'è l'esigenza la pretesa per chiarezza dei cittadini che il consiglio regionale le opposizioni e mi rivolgo a loro e in modo particolare a chi si vuol candidare a rigovernare o governare questa regione dico a Michele Iorio l'amico Michele Iorio al consigliere al presidente Michele Iorio che bisogna fare una mozione di sfiducia alla luce di quando scritto da questa sentenza indipendentemente come va a finire i molisani devono sapere se questo consiglio regionale e i consiglieri regionali sulla loro esposizione etica su un problema serio come questo cosa dicono e cosa penso per l'attualità ma anche per la storia è necessario e posso augurarmi che è un momento di prendere al di là di un esito come diceva Antonio forse scontato non credo che diciamo che si rafforzerà il presidente frattura stiamo a fine legislatura non sono questa ma di fronte ai cittadini il consiglio regionale ha un dovere etico di esprimere questa come di parlare e di far conoscere le proprie posizioni su questo principio come non sottovaluterei l'attivazione dell'articolo 54 della Costituzione che è un altro aspetto del problema che può essere come dire messo in moto o dai cittadini che fanno attraverso una petizione al presidente della Repubblica per attivare le commissioni congiunte e l'attivazione dell'articolo 54 della Costituzione con disciplina e onore qui è venuto a mancare l'onore di chi ha tentato di andare in galera due persone una giornalista e un rappresentante dello Stato un magistrato non è la stessa cosa mi permetto di fare la differenzazione perché lo stesso rappresentante dello Stato il magistrato stava e aveva nelle mani perché ha subito un trasferimento quindi non abbiamo avuto la possibilità di conoscere l'esito di quell'indagine è diventato una e può diventare una metodologia per ricusare il proprio magistrato che sta indagando su di te questa è di una gravità enorme che è un aggravante rispetto all'azione diretta delle persone perché può diventare un metodo e credo che ci sia stato un difetto iniziale anche del pubblico del procuratore avviare una causa così come si legge nella sentenza un processo un processo penale ritenendo per via di principio che A e B rappresentanti dell'istituzione fossero cittadini di serie A contro C e D cittadini normali perché ha ritenuto senza prova istruire un processo penale e solo la difesa ai due imputati accusati da queste persone che ha rappresentato questa persona che rappresentava l'istituzione è stata capace di difendersi e procurare al giudice i riscontri e le prove della propria innocenza questo è un altro aspetto del processo ma intanto la conseguenza tre anni come dire sottoposti a a un'opinione pubblica all'azione mediatica nella comunità nella propria professione e con un trasferimento subito dallo stesso magistrato che è stato riconosciuto alla sua onorabilità ed aver agito alla luce del sole è in modo pulito e chiaro chi li rimette in campo questi pezzi di quest'azione che è stata fatta allora sottovalutare questo problema anche in prossimità della prossima campagna elettorale anche da parte dei cittadini che possono estragnarsi far finta che non è un problema collettivo ma che sia un problema di quattro persone è un errore modernale se questa regione non reagirà a fronte di questa sentenza è una regione morta ecco perché la massima istituzione regionale ha il dovere di verificare se questa è una regione ancora con delle persone vive dentro che si indignano e che scendono in campo per come dire per la giustizia oppure è una regione appecorata e non ha più senso di esistere ecco con questo spartiacque perché è chiaro che questo episodio gravissimo a memoria personale non ne ricordo altri di questa gravità e di questo livello di costruzione in Italia con questo discrimine andremo sicuramente verso le elezioni regionali abbiamo parlato di un fatto di attualità della pubblicazione delle motivazioni relative al caso Bari la sentenza del giudice Antonio Diella che ha assolto con formula piena il magistrato Fabio Papa e la direttrice di Telemolise Emanuela Petescia ingiustamente accusati da parte del presidente della regione Molise Paolo Di Laura Frattura adesso facciamo una breve pausa pubblicitaria poi ritorniamo in studio e riprendiamo il nostro cammino cioè la discussione partiti o movimenti in vista delle prossime elezioni regionali allora bene eccoci di nuovo in studio dopo la pausa pubblicitaria a parlare di elezioni regionali di partiti e di movimenti Antonio Di Brino la domanda a lei come dire contiene già la risposta se sia meglio andare alle elezioni regionali in una formazione in una coalizione di partiti attraverso un movimento trasversale lei è il segretario regionale di direzione Italia quindi su questo credo che non ci sia da discutere tra la preferenza partitica o quella movimentista ma al di là dello schema ci avviciniamo insomma come dire a grandi passi verso l'appuntamento di marzo 2018 a che punto è il suo partito quali sono le relazioni con gli altri compagni di viaggio e soprattutto con lo schieramento perché lei è stato e resta lo ha sempre detto un uomo di centrodestra e la coerenza in questa regione è merce rarissima quindi dobbiamo dargliene atto a che punto è la situazione allora innanzitutto come segretario regionale di direzione Italia penso di poter parlare da una posizione privilegiata perché il nostro più che un partito è una confederazione di movimenti ossia Raffaele Fitto che è il nostro leader nazionale ha pensato di confederare i movimenti regionali che si erano costituiti e abbiamo costituito una vera e propria confederazione quindi più che un partito noi siamo una confederazione di movimenti regionali questo perché perché io sento soprattutto in occasione delle prossime regionali insomma si parla di volti nuovi eccetera non è che io sono più per cambiare il metodo che le persone perché se le persone vanno bene non vedo la motivazione anche sul piano professionale se un primario di cardiochirurgia è un luminare non vedo perché lo debba sostituire con il giovane assistente se questo è ancora in grado di innovarsi di cambiare e di cambiare metodo e quindi di aggiornarsi rispetto a quelle che sono diciamo così le sfide il progresso nella fattispecie della sanità quindi ecco perché ritengo di parlare da una posizione privilegiata tuttavia io sono convinto che le elezioni sia nazionali che regionali si vincono se si è in coalizione e se si è tutti uniti quindi rispetto a una situazione nazionale che vede un quadro politico ormai tripolare centro-sinistra centro-destra e Movimento 5 Stelle anche credo nella regione Molise si debba presentare questo schema salvo poi visto i disastri che sono stati fatti in questi ultimi 4 anni e mezzo ormai 5 anni c'è una parte della collettività che è così colpita diciamo da quello che è stato il governo Frattura che non si è limitato solo alle vicende giudiziarie che abbiamo detto poco fa perché anche io sono stato vittima politica di un episodio che non aveva nulla di politico perché io sono stato a proposito di costituzione di parte civile da parte della regione Molise io sono stato come dire colui che non ha dato l'autorizzazione di permesso a costruire per la Biocomo per cui siccome Frattura aveva preso 300.000 euro ma io non lo sapevo di anticipazione rispetto alla realizzazione di questa centrale io ero sindaco all'epoca e siccome avevo diffidenza rispetto alla costruzione di nuove centrali nel nucleo industriale nel cosico dove già abbiamo industrie chimiche la turbogassa eccetera siccome tra l'altro vi erano dei vizi procedurali perché io non potevo bloccare la realizzazione di una centrale pur essendo avendo una posizione contraria rispetto a un appesantimento diciamo così dell'inquinamento ambientale a Termoli e per questo insomma Frattura disse all'atto della sua elezione il primo comune che deve cadere è quello di Termoli perché di Brino non l'avevo autorizzato poi sostenuto anche dal grande facciola a cui avevo detto no per l'insediamento delle 12-14 mila manze insomma che avrebbero inquinato ulteriormente il nostro territorio quindi fatto questo detto questo che oggi ci siano nel Molise movimenti trasmersali che hanno l'obiettivo credo non prioritario di governare ma di mandare a casa Frattura nella nostra regione è una cosa che io giustifico e in qualche modo vedo anche bene considerata la reazione rispetto a quello che è accaduto per quanto riguarda Direzione Italia io l'ho spiegato noi siamo una confederazione di movimenti a livello nazionale siamo nel centro-destra per una ragione di coerenza quando io aderendo al nuovo centro-destra pensavo di stare in un nuovo centro-destra invece mi ero ritrovato in un vecchio centro-sinistra ho scelto prima ancora che Alfano sciogliesse il partito di andarmene proprio per una ragione di coerenza credo che il nostro impegno alle prossime regionali sarà un impegno all'interno della coalizione centro-destra qual è la situazione? c'è un tavolo regionale che si è riunito si sta riunendo in realtà devo dire che in quel tavolo e su quel tavolo abbiamo chiesto chiarezza su alcune posizioni cioè sosteniamo che di sapere oggi e di voler sapere oggi chi ci accompagnerà nella campagna elettorale come centro-destra perché è difficile immaginare che chi fino ad oggi ha sostenuto Frattura possa ancora continuare a farlo e soprattutto immaginare che al ridosso delle elezioni regionali assuma una posizione diversa quindi noi chiediamo chiarezza anche chiarezza sulla situazione che si è venuta a creare a Boiano con i sovranisti di Perrella che hanno salvato lo dobbiamo dire un'amministrazione di centro-sinistra targata Frattura quindi noi vogliamo chiarezza all'interno di quel tavolo devo dire che l'onorevole Patriciella ha partecipato una delle sedute del tavolo e questo l'abbiamo visto in maniera abbastanza positiva però ovviamente a noi servono gesti ed atti concreti come posso dire cosa ha detto l'onorevole Patriciella a questo tavolo? Lui ha detto che è di Forza Italia che è diciamo così nel centro-destra si ritrova nel centro-destra per una scelta nel 2013 diciamo così di opportunità ritenendo che Frattura avrebbe vinto le elezioni e si è schierato con Frattura è ovvio che in quella occasione lui ha comunque sostenuto di voler appoggiare il centro-destra in una situazione anche lui di chiarezza in una situazione in cui ci sono prospettive di vittoria è ovvio che lui dice io sono di Forza Italia e appartengo al centro-destra e noi vogliamo che lui non solo lo dica ma lo dimostri pure ma lo dimostri anche in tempi brevi perché comunque insomma voglio dire non si può sostenere da una parte servire Dio e Barabba insomma da una parte Frattura e dall'altra io sono centro-destra ci vuole un po' di chiarezza auspico e mi auguro che tutto il centro-destra arrivi unito alle prossime elezioni regionali se dovesse passare la legge elettorale al senato ritengo che un buon centro-destra unito organizzato possa questa volta fare 5 a 0 cioè riuscire ad avere i due senatori e i tre deputati se 5 sono i posti vedo che l'amico Antonio sorride la legge elettorale no se lo dico noi abbiamo i collegi i collegi ogni nominale i due collegi Campobassi-Sene quindi abbiamo due uni nominali sicuri al senato poi abbiamo i tre collegi alla camera col proporzionale se riusciamo a fare un discorso serio e siamo uniti vedi io lo dico all'amico già collega Antonio D'Amproso che siamo stati consiglieri e giornali insieme quando quando il vento cambia è difficile riuscire noi siamo insomma gente di mare insomma voglia puoi mettere quello che vuoi puoi girare la vela tutto quello eccetera però quando il vento è contrario il vento è contrario e quando hai il vento in poppa hai il vento in poppa in questo momento mi sembra che insomma il centro-destra possa dire di avere il vento in poppa sia a livello nazionale soprattutto a livello regionale io ogni tanto mi esprimo con delle frasi con delle frasi breve io dico che oggi brevi io penso che oggi il centro-destra deve avere la capacità di non vincere cioè deve avere la capacità di perdere ce la deve mettere proprio tutta perché io sono convinto che se si ritrovano le ragioni dello stare insieme tra i partiti e il movimento del centro-destra si vince e sono anche convinto che quando arrivare il momento si troverà la quadra e spero di poter dire da qui a marzo aprile che finalmente riusciamo a dare un governo nuovo capace e competente alla regione Bonise perché vedete oggi la sfida non è è sicuramente quella di vincere per mandare a casa frattura ma la sfida vera è quella dopo di potere e di saper governare perché anche le ultime notizie che sono apparse qualche giorno fa da parte di qualcuno di centro-destra che vuole le macro-regioni io sono per l'autonomia regionale tanto è costata l'autonomia regionale al Molise io la voglio conservare io vorrei morire molisano né laziale né abruzzese né pugliese se fosse possibile con questa come dire con questa prospettiva funesta che allontaniamo ecco diamo invece uno sguardo nel mondo della sinistra Nicola Lanza io non credo di sbagliare nel definirla uomo di sinistra protagonista di mille battaglie che vanno dall'acqua pubblica alla sanità all'ambiente e a moltissime altre guardiamo un po' cosa sta succedendo a sinistra quali sono secondo lei le prospettive dell'ala movimentista della sinistra perché abbiamo assistito ad uno sgretolamento del centro-sinistra fratturiano molti se ne sono se ne sono andati a cominciare da coloro che poi se l'erano inventato frattura il senatore Ruta il deputato Leva ci sono delle possibilità che i movimenti a sinistra riescano a trovare anche loro una dimensione di sintesi laboratorio progressista ricordiamolo nel 2013 ha fatto una battaglia di testimonianza lodevole in una circostanza come questa però poi alla fine per incidere per determinare i cambiamenti nella realtà occorre avere quel voto in più per cambiare le cose allora innanzitutto qual è il suo giudizio su questi anni che sono trascorsi con questo centro-sinistra e dalla sua prospettiva dalla sua dimensione come vede l'appuntamento per le regionali del 2018 si intanto oggi parlare di sinistra è complicato perché di sinistra si definisce Renzi di centro-sinistra si definisce il PD o dicono di essere un partito di sinistra è una parola che usarla oggi svuotata da ogni significato confonde soprattutto l'idea a chi ci sta ascoltando ma soprattutto ai cittadini perché qui il problema è sinistra oltre alla sinistra ma quando diciamo sinistra la dobbiamo unire a temi quindi che cosa vogliamo fare all'interno di questa regione che cosa possiamo fare per questa regione beh ho ascoltato con attenzione l'esponente del centro-destra e con attenzione e con preoccupazione perché ricordo una delle battaglie fatte sulla sanità dove ho visto in piazza esponenti del centro-destra che contestavano il piano sanitario regionale proposto dal commissario e presidente della regione Molise Paolo Frattura e mi domando è vero che il piano sanitario è stato presentato da Frattura ma uno dei beneficiari di questo piano sanitario è un imprenditore molto noto del centro-destra e di Patriciello certo bisogna capire diciamo quando noi quando noi diciamo al di là delle sigle degli schieramenti del dello stare insieme per vincere che non capisco ancora per vincere cose in una in una regione così disastrata dove dal dal lavoro dalla parte degli ultimi hai aperto hai aperto con un servizio bellissimo una delle tante battaglie che stiamo portando avanti con un servizio che riguardava i caregiver e che riguardava le persone non autosufficienti in questa regione e succede che in questa regione cittadini come me come altri vengono chiamati dai più deboli perché mancano i riferimenti dei partiti mancano i riferimenti diciamo delle organizzazioni vengono chiamati per dire ci sta succedendo questo e nel caso specifico dell'apertura di quel servizio queste famiglie ci chiamarono per condividere una battaglia perché i fondi nazionali per la non autosufficienza venivano diciamo destinati non tanto a caregiver che è la figura che può diciamo assistere con appropriatezza chi porta una disabilità ma venivano destinati a come dire utilizzi tra terzo settore che river stessi creando delle difficoltà che tutt'oggi non sono risolte speriamo che verranno risolte il problema è mettersi d'accordo sul cosa fare per la regione oltre a fare le sigle perché qui è vero ci sembra da quello che capisco da quello che vedo che ci siano tre schieramenti centro-destra un possibile centro-sinistra e il movimento 5 stelle che competono per il governo della regione il punto è che c'è un quarto polo che non vota un quarto polo che dice che cosa sta succedendo che cosa si può fare da dove si parte quali sono i temi e su quei temi eventualmente trovare la voglia di andare a votare e trovare la voglia di essere all'interno di una competizione perché questo è il problema che abbiamo oggi voglio dire bisogna capire se alcune figure che governano da sempre questa regione voglio dire tipo Rialza Timolise credo che sia il partito che fa capo a Patriciello è un movimento che governa da sempre questa regione qualsiasi è lo schieramento che sia di centrodesto che sia di centrosinistra che sia alternato in questa regione bisogna capire se la politica riesce rispetto a chi ha un interesse diretto voglio dire rispetto alla gestione del bene pubblico se riesce a come dire staccarsi da queste persone e riesca a fare un lavoro che abbia un senso per il Molise voglio dire che faccia la politica allora si sta insieme sui temi se è sul centrodesto lei dice io sono soffranista poi c'è una parte del centrodesto che dice beh noi siamo per le macro regioni cercate di mettervi d'accordo però perché questa è una questione se vuole parliamo di programmi parliamo di sanità parliamo di programmi parliamo di lavoro io non ho toccato però questi temi assolutamente di programmi quindi poi chiedo diritto di replica è chiaro assolutamente di programmi perché ma assolutamente di programmi perché io vorrei capire qual è la vostra posizione sull'acqua pubblica voglio dire in questi anni le battaglie sull'acqua pubblica l'hanno fatto pochi sindici è un gruppetto di cittadini ma mi faccio parlare poi lei ha diritto di replica la farà voglio dire no solo per dire che l'unico sindaco il sindaco di Termoli di Brina ha inserito nello statuto il principio eh sì però se si confronta con me no 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 ci sono anche io ma guardi 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 ok ok no 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 pensavo non lo sapesse no io c'ero come lei io c'ero ah e allora lo dica per cui siccome dico pochi cittadini e pochi sindici con quei pochi sindici con pochi cittadini e la stampa e testimonio voglio dire probabilmente c'eravamo insieme allora probabilmente e lei potremmo fare diciamo anche abbiamo delle vedute comuni assolutamente probabilmente su delle vedute comuni importanti tra cui voglio dire questo che non è secondario che è la questione dell'acqua pubblica né in questa in questa regione ma non è secondario in Italia né secondario in Europa dove città come Berlino città come Parigi hanno ripubblicizzata l'acqua pubblica le stesse società che gestivano a Berlino a Parigi l'acqua pubblica adesso vengono a mettere le mani nel sud Italia sulla gestione dell'acqua del sud Italia allora è una questione fondamentale la sanità è una questione fondamentale non è una questione fondamentale la sanità deve essere pubblica e controllata pubblicamente o la sanità deve essere uno strumento di reddito o di guadagno oppure ci deve stare diciamo questo faccio una precisazione nel caso in cui avessimo la possibilità di governare questa regione ci rendiamo bene conto e questo l'ho detto in tante occasioni ci rendiamo bene conto che un sistema pubblico privato non può essere stravolto in tempi strettissimi ma l'orientamento è importante cioè l'orientamento capire dove e quale direzione noi vogliamo dare e perché pubblica e perché poi il pubblico debba essere anche controllato perché dire pubblico non basta ma un pubblico che funziona perché fino ad oggi ci fanno credere o ci hanno fatto credere che tutto quello che è pubblico è un problema perché la gestione pubblica non è capace perché c'è corruzione o perché per mille perché no poi quando vediamo che la gestione dei servizi essenziali diventano vengono affidati a privati vediamo che le cose vanno ancora peggio se vogliamo mi ricordo che qualche giorno fa alcuni operai alcuni autisti della SEAC di Campobasso in piazza stavano in presidio perché hanno perso il posto di lavoro il posto di lavoro alla SEAC di Campobasso che è un'azienda privata che gestisce un servizio pubblico e questo è il dato cioè il comune di Campobasso che è committente non riesce a tutelare il lavoro avendo pur dato una gestione diciamo privata ad un servizio pubblico allora il dato è otto disoccupati in questi giorni al di là delle chiacchiere il dato è quello la domanda è questo è l'effetto ma la causa qual è? cioè voglio dire se si perde posti si perdono posti di lavoro e sappiamo tutti che a livello nazionale sono stati ridotti gli importi destinati al sono stati tagliati le risorse sono stati tagliate le risorse per i trasporti pubblici li abbiamo queste problematiche le stanno vivendo tutte le città d'Italia le vive Napoli che ha comunque un servizio pubblico gestito dal pubblico ma non è stato messo in discussione il lavoro in questo caso sono state mandate a casa otto famiglie ecco Antonio D'Ambrosio Nicola Lanza ha spostato insomma come era anche prevedibile il ragionamento sui contenuti ha parlato in conclusione del suo intervento di lavoro ha parlato di sanità ha parlato di acqua pubblica l'impressione che si percepisce anche nel dialogo che c'è stato con Di Brino è che su determinati temi in realtà poi quelli che sono gli schemi centrodestra centrosinistra crollino e le distanze si accorciano io ricordo una copertina del settimanale della destra sociale Area che fece questo titolo molto efficace il popolo contro le lobby allora l'impressione che abbiamo è quella che chi poi entra nel palazzo si costituisca un minuto dopo il lobby ti faccia il lobbiste e dimentichi tutte le cose dette in campagna elettorale se andiamo a vedere il programma di Paolo di Laura Frattura verificato oggi è un libro dei sogni che nessuno ha mai realizzato allora chiediamoci e ti chiedo ci sono degli anticorpi nella società molisana tali da sfruttare questa distanza che si avvicina che si accorcia e renderla istituzione cioè far sì che la nuova classe dirigente possa effettivamente con onore e con dignità portare avanti un programma che rialzi il Molise al di là delle sigle movimentistiche inventate per partecipare alle elezioni regionali ma che lo faccia veramente non c'è un anticorpo specifico nella democrazia ci sono gli anticorpi vale a dire una magistratura che funzioni una rete di informazione che funziona la partecipazione dei cittadini a processi e l'attenzione dei cittadini per informarsi per la cosa pubblica e ci sono altri fattori come quelle delle classi dirigenti delle rappresentanze sociali che devono essere i protagonisti quindi c'è uno schema nella democrazia dove pilastri scusami se ti interrompo perché voglio aggiungere a questo tuo elenco che purtroppo in quella circostanza con la quale abbiamo aperto ma in generale sui temi regionali anticorpi come possono essere gli intellettuali i sindacati le associazioni confessionali sembrano scomparsi allora si capisce che questa comunità non ha anticorpi la nazione quando è anticorpi c'ha? la nazione ha pochi anticorpi anche la nazione ed è un dramma perché un sistema così sul piano dell'analisi e della visione storica è come avviarsi a un declino se non c'è di risveglio la nazione può avviarsi al declino perché manca di anticorpi e c'è un vulnus tutto italiano che è quello del diritto c'è la certezza del diritto vale a dire abbiamo una quantità di leggi enorme un popolo che tre volte la Francia sette volte l'Inghilterra tre quattro volte la Germania la quantità di produzione legislativa quindi può far sembrare che è un popolo ben messo perché le leggi possono andare nel dettaglio e invece è una nazione che non funziona perché manca l'altro braccio che è l'antivirus la certezza dell'osservanza del diritto vale a dire avete visto qualcuno di fronte alla legge su chi fuma e butta in mozione di sigaretta per terra che è vietata dalla legge recentissima fatto una multa in Italia a qualcuno mai non esiste ecco l'assenza della certezza dell'osservanza del diritto ci rende un popolo in declino questo è il dato di fatto sul piano dell'organigramma sociale e della struttura sociale di fronte a uno stato di questa condizione il 50% dei cittadini italiani si sono allontanati dalla politica perché le loro azioni non sono state riprese dai partiti politici e non sono state riportate all'interno dell'istituzione per far funzionare le istituzioni questa è la saperatezza tra Stato e società civile tra politica e società civile esempi sono migliaia che noi possiamo fare però c'è un focus da accendere uno spot da accendere su questo disastro che c'è e le contraddizioni Papa Francesco questo è il momento di parlare di Papa Francesco Papa Francesco pone una questione rivoluzionaria alle società del mondo ma se noi riflettiamo quanto interessa può fare e quanto bene può fare la coerenza di quello che si dice e di quello che si fa e la politica deve e i partiti devono ritrovare la coerenza non è più vero Antonio non perché tu l'abbia detto ma tu sei cattolico lo dico a te come cattolico che fai quello che dice il parrico sull'altare non guardare quello che dice sull'altare non guardare quello che fa Papa Francesco ha detto il parrico che dice sull'altare deve fare quello che dice sull'altare e se tu sei credente devi fare quello che dice il Vangelo questa separatezza è anche riguarda alla politica e allora se noi ritroviamo queste strade io ci dà solo qualcuna ritroviamo queste strade che sono le certezze se ritroviamo insieme prima del programma siamo d'accordo su questi percorsi io credo che il programma su queste strade maestre riusciamo a trovarle però siamo ancora un po' in ritardo nonostante chi lavora nel sociale nonostante i partiti politici e non si incontrano a questa domanda questi bisogni e queste chiarezze tra i partiti e la società allora ecco lo sforzo che bisogna fare secondo me e anche nella regione esistono le larghe intese ma queste larghe intese sono come dire prese dalla quotidianità e dalle storiche personali che ognuno si pone e non riescono a trovare come dire possibilità di dialogo fuori da quelle stanze Antonio tu sai l'affetto ma non lo dico per questo tu hai fatto un'affermazione che io ritengo di un'analisi seria e un tentativo che state facendo come centrodestra di ritrovare un'unità però giustamente non bisogna come dire fare chiarezza su chi ha predicato in un modo e diventa incoerente a sostenere il centrosinistra ecco di chi ma non solo a Boiano parliamo di Aldo Patriciello l'onorevole Patriciello io ho un altro pensiero per la verità perché il problema che è stato creato è l'assenza di rinnovamento richiesto nella società molisana di rinnovamento dove non c'è stata nel centrodestra pezzi del centrodestra come dire hanno preso sulla scorta di una benevolenza dell'onorevole del senatore Rute di leva hanno fatto un'altra azione hanno preso il centrosinistra nominalmente e hanno governato ma questo è centrodestra si chiamano centrosinistra no Antonio ascolta Antonio guarda ti dico mi toccherà un diritto direttico ti darò 5 minuti in più io faccio il paradosso naturalmente prendiamo anche il telespettatore prendetelo come paradosso è strano pensare che adesso abbia governato il centrodestra puoi scherzare puoi scherzare questo ha fatto Frattura sono in quel governo Frattura ha fatto no ma non perché tu sei il centrodestra scusami bravo ascolta il ragionamento del paradosso e poi dal paradosso vediamo se ne ricaviamo non c'ero io non c'era io non c'eravamo Frattura ha fatto quello che voi del centrodestra non siete stati cioè non l'avete nemmeno immaginato è stato di più di voi perché evidentemente non ci credevamo no appunto non siamo arrivati a tanto se proprio ci volete inquadrare negativamente voi siete i moderati del centrodestra che vi ho capito tutto l'onorevole Patriciello che quando ti ha detto io sono di Forza Italia a quel ti ha detto che io di Forza Italia ho messo un mio uomo a presidente della giunta regionale per fare le politiche di destra quelle sono state fatte hanno chiuso gli ospedali hanno chiuso le aziende hanno chiuso le partecipazioni ha distrutto la fa pubblica cioè più di questo che doveva fare per il povere questo di frattura la colpa non è di Patriciello è del centrosinistro che gliel'ha permesso sì te l'ho detto già che avevamo il gatto e la volpe che pensavano avevamo il gatto e la volpe che pensavano di mangiarsi loro il topo invece il topo ha mangiato loro due questa è la verità però è stato messo lì quindi noi non Patriciello è coerente quando viene a tua tavola e ti viene a dire oh amico io ho messo il centrodestra questa va a telepolitica di centrodestra lo dovete valutare nei contenuti no 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 è il paradosso che ti sto facendo però è così scusa ha fatto le politiche di destra sulla sanità ha fatto le politiche di destra sulle acque scusami è come non so ma l'ha fatta la Thatcher l'ha fatta Reagan l'ha fatta ma non quella voi non avete osato Michele non ha osato fare quanto perché aveva un'altra forza un'altra visione quella è la destra no 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 Frattura poi ci sono politiche ci sarà il tempo il governo Frattura non ha fatto politica no ha fatto altro ha fatto altro ha fatto altro ha fatto una politica di destra ma no spaventosa proprio facciamo concludere da brodo con rigore l'ha fatta una politica di destra e i defessacchiotti che hanno la targhetta di sinistra qui vanno a sbattere le mani sotto al palco ma quello ha fatto e sta facendo una politica di destra no ma classica proprio forse non lo sa nemmeno lui no la politica di destra non è questa Antonio scusa no come no questa è la politica di Frattura lascia aperte allora poi lo spiegherò la politica di destra in senso lato no ma è giusto che la trasmissione andiamo a conclusione dell'intervento e poi in senso lato no che lato in senso stretto la politica di destra e di sinistra vedi che bisogna capire che cosa si intende per destra e che cosa si intende per sinistra appunto bene allora la destra chi più del nostro direttore può dirci che cos'è la destra sociale poi vediamo la parola vuoi vedere che la destra è diventata cosa diversa rispetto a quella che è alto patriciello ha fatto feste perché ha messo un suo uomo di destra a governare la regione dove alto patriciello onorevole patriciello ha messo a governare la regione un suo uomo dicendo sinistra ma quali centrosinistra quelli di metà il partito è de forza italiana ma vi chiamate fuori la turra è de forza italiana no no non mi chiamo fuori eh dai su non mi chiamo fuori la responsabilità te l'ho detto rute e leve rute e leve che pensavano di mangiarsi il topo il topo ha mangiato il gatto e la volpe e questa è la verità ecco vabbè poi riprendiamo adesso puoi dire quello che devo arrivare naturalmente tieni conto scusi Pasqua per gli spettatori sono partito da un paradosso ma la realtà diciamo sulle azioni sono catalogate scomiazione conservatrice mi sembra un'azione allora adesso adesso ci fermiamo un attimo poi riprendiamo perché immagino che Di Prino abbia da dire un po' di cose lasciamo lasciamo spazio a lui perché intende replicare sia a Lanza che ad Antonio D'Ambrosio una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo in studio bene eccoci di nuovo in studio il nostro secondo giro di conversazione con i nostri ospiti con Antonio Di Brino segretario regionale di direzione Italia Nicola Lanza di laboratorio progressista è stato abbastanza vivace poi Antonio D'Ambrosio ci ha messo il carico da 11 che cosa è venuto fuori Paolo Di Laura Frattura sostanzialmente ha fatto in questi anni politiche di destra sostengono i due interlocutori nei confronti di Di Brino ecco perché al tavolo del centro-destra l'onorevole Patriciello che è come dire il dominus di questa coalizione che governa il Molise abbia ribadito la propria appartenenza e fedeltà a Forza Italia probabilmente dice D'Ambrosio anzi tolgo il probabilmente riconoscendo in Paolo Di Laura Frattura un esatto esecutore delle politiche di destra se pensiamo all'acqua pubblica con la costituzione del Legam e alla sanità pubblica letteralmente taglieggiata dal piano operativo predisposto dal presidente e commissario Frattura poi i dati sono sul terreno di Brino però su questo insomma ha sicuramente qualcosa da dire su questo e su altro anche perché poi è vero che Frattura era uno di Forza Italia ma è pur vero che è stato eletto con i voti del centro-sinistra beh intanto nell'ascoltare il ragionamento dell'amica Antonio D'Ambrosio ho riporcorso un poco gli anni del liceo quando in matematica si risolvevano i problemi i famosi assiomi partendo da un assurdo partendo dall'assurdo che Frattura era di forzità di centro-destra il governo Frattura ha fatto politiche di centro-destra questo mi sembra scusami Antonio un poco semplicistico e poco conforme alla realtà anche perché il governatore il governatore però ha un consiglio regionale ha una maggioranza e mi sembra che sia la maggioranza che dia l'indirizzo politico all'attività di governo quindi la maggioranza negli ultimi cinque anni della regione Molise è una maggioranza di centro-sinistra chi è il segretario del Partito Democratico? il fatto che chi è il segretario del Partito Democratico? Micaela Fanelli? ebbè da dove viene? e che non so viene dal centro-sinistro ma come centro-sinistro? dal centro-destra ma no non che c'è andiamo la Fanelli no ma a me piace essere interrotto ho anche il vizio di interrompere e chiedo scusa all'amico Nicola tanto perché a casa poi risulta un dibattito confusionale allora detto questo insomma mi sembra assurdo che si possa dire che abbia che siano state fatte politiche di centro-destra io sostengo che politica a favore di tutte le classi non solo di quelle più deboli in questi cinque anni non ne sono state fatte e se sono state fatte sono state disastrose ora nel merito degli argomenti io mi permetto di rivendicare a me perché io ho la fortuna lo dico all'amico Nicola di poter parlare coi fatti perché io ho una esperienza politico-istituzionale di qualche lustro e ho avuto anche la fortuna di fare il sindaco di Termini quindi non è sempre vero che le politiche sbagliate sono di destra o di centro-destra io posso dire con orgoglio visto che alcuni argomenti sono stati sono stati sono stati toccati io ti posso dire che il sindaco di centro-destra Antonio Di Brino durante il suo mandato ha inserito nello statuto comunale il principio secondo il quale l'acqua deve essere pubblica il sindaco Di Brino è stato l'unico sindaco dell'unico comune della regione molise che ha approvato il regolamento per il referendum ora è un'amministrazione di centro-sinistra che non consente di fare il referendum un sindaco di centro-destra del comune di Termoli Di Brino ha difeso l'ambiente ed è caduto per le difese strenue che ha fatto per la salute dei cittadini per l'ambiente per la tutela dell'ambiente su alcune tematiche io posso dire e le dico il mio pensiero sulla sanità io sono per una sanità pubblica per i servizi di base per garantire i livelli essenziali famosi lea di assistenza il privato io non abbiuro il privato ecco come potrebbe accadere ad uno di sinistra il privato è giusto che ci sia perché così come è giusto che ci sia il volontariato il sociale perché il pubblico non riesce a garantire tutti i vuoti tutti gli spazi di servizio ai cittadini però la sanità privata deve essere come dire deve compensare quelle attività che il pubblico non può rendere allora benvenga la cattolica benvenga la neuromed però devono fare medicina super specialistica complementare rispetto a quello questa è la mia posizione e queste posizioni lei le troverà nel programma del mio partito e queste posizioni se sarà possibile le farò inserire nel programma del centro-destra insieme a Michele Iorio sulla questione dell'autonomia regionale è vero che io ho una posizione che è quella di conservare di mantenere l'autonomia regionale che è costata ai nostri padri fondatori impegno lavoro sforzo sacrificio ora che si alza un guisco del popolo che si connota col centro-destra ma che ha avuto anche lui un trascorso nel centro-sinistra ma senza lo definisco come l'innominabile non l'innominato l'innominabile che è di più rispetto all'innominato allora se ci sanno delle posizioni diversificate beh io le posso dire che cercherò di far passare la mia posizione e la difenderò strenuamente allora non mi si venga a dire che le politiche di questi ultimi cinque anni sono state politiche di centro-destra sono state le politiche di frattura evidentemente l'onorevole Patricella che pure ha il suo target di Forza Italia ha trovato la convenienza di sostenere in campagna elettorale tanto questa è storia che invento nulla non invento l'acqua calda tra l'altro ci sono le immagini non ci sono problemi evidentemente mi auguro e auspico che anche l'onorevole Patricella si renda conto di quello che è accaduto in questi anni e non solo per i benefici tratti dalla sanità privata che evidentemente ci sono stati ma è un privato quindi il privato cerca di ottenere i suoi benefici e il controllo pubblico sono le scelte pubbliche allora io le posso dire che se il centro-destra dovesse tornare e mi auguro che tornerà al governo di questa regione beh prima di tutto si dovrà fare una legge regionale per ridare dignità alla sanità pubblica di questa regione in dando vanno invertiti quei rapporti tra pubblico e privato che vede molto avvantaggiato il privato con il governo di centro-sinistra non con il governo di centro-destra in dando va fatto immediatamente una legge su legam bisogna eliminare quel mostro perché è un mostro la legge su legam è un mostro io ho votato contro in consiglio comunale quando dico che per me parlano i fatti e non le parole e quindi non le chiacchiere io ho la possibilità la dignità di poter dire nella mia attività politica istituzionale io ho fatto questo dopo di che avete tutto il diritto di critica nei miei confronti però fatelo in maniera puntuale fatelo in maniera documentata e ditemi dove ho sbagliato e sicuramente io di errore ne ho fatto io ho fatto la politica che credo di centro-destra non è vero che la destra è una una politica tutta lanciata verso il privato verso il lucro verso il guadagno non è vero perché se io mi rifaccio alla destra sociale insomma è tutt'altro rispetto a quello ecco perché io sono di centro-destra la dottrina sociale della chiesa io sono e ve lo dico e ve lo spiego perché sono al di là dei valori delle ideologie eccetera io sono perché a me piace uno stato un ente organizzato rispettoso ordinato questa per me la destra mi dà indicazione di ordine se vogliamo anche di disciplina ma dove le regole esistono dove chi non rispetta le regole è giusto che venga sanzionato la cicca di sigaretta che tutti buttano e che nessuno sanziona dopodiché e lo dico a entrambi voi vedete si parla anche oggi di impresentabili ma gli impresentabili al di là anche della vicenda giudiziare che io condanno esprimo tutta la mia solidarietà sono stato anche vicino sia la direttrice al direttore di Telemolise Emanuela Petesce che al magistrato Papa però gli impresentabili sono veri politicamente sono quelli che hanno tolto dignità e voglia di vivere alle persone di quelli che hanno chiuso lo zuccherificio di quelli che hanno chiuso legam di quelli che hanno chiuso l'ITR di quelli che hanno chiuso gli ospedali e questo scusami Antonio D'Ambrosio non è stato un governo di centro-destra ma è stato un governo targato centro-sinistra guida frattura che ha avuto un'esperienza in vostra Italia e poi si è pentito quindi io lo definisco un pentito figurse lo posso definire di centro-destra sono stato con lui candidato nel 2001 alle regionali io sono stato eletto e lui era quarto-quinto dei non eletti oggi lui fa il presidente della regione io faccio il consigliere comunale a terra dignitosamente e con grande orgoglio e quindi per concludere e scusatemi se mi sono un poco accalorato rispetto a questa vicenda noi ci presentiamo come centro-destra nella coalizione di centro-destra con un nostro programma chiaro che e non a caso è avversato da qualche quisque de popolo proprio perché perché noi abbiamo le idee chiare sulle cose che vogliamo fare sulla legge sull'acqua pubblica sulla sanità pubblica su tutto quello che possa ridare dignità e speranze e idealità di lavoro non solo ai giovani ma anche a coloro ai tantissimi ai tanti ai tantissimi che sono usciti dal circuito del lavoro e che non riescono a rientrare dopodiché benvengano le associazioni di volontariato benvengano le strutture e gli antipubblici benvengano benvenga anche il privato purché non si sostituisca al pubblico spero di aver espresso in maniera chiara per la prima volta e forse più di prima il mio pensiero suffocato da fatti e da esperienze vissute chiarissimo come è chiaro che ci sia un interscambio ed una confusione tra destra e sinistra con i travedi della politica di coloro che vanno da una parte all'altra in questo senso credo che insomma Frattura rappresenti un esempio da studiare nelle università Nicola Lanza il sindaco di Brino ha fatto cenno nella sua appassionata autodifesa e difesa del centro-destra a un elemento importante il referendum è vero che il comune di Termoli è l'unico comune della regione molise ad essersi dotato di questo strumento non così a parole perché scriverlo nello statuto è scritto pure nello statuto della regione molise ma poi traducendolo in pratica attraverso un regolamento che disciplina le forme e i modi attraverso i quali poter utilizzare questo strumento la regione molise lo ha scritto nello statuto ma non ce l'ha il regolamento per i movimenti invece il referendum è uno strumento importantissimo perché consentirebbe ad esempio di rimettere in discussione la legge sull'Egam come è possibile cambiare questo mostro che si è creato e che rischia concretamente l'affidamento ai privati della gestione dell'acqua perché è inutile continuare a dire che l'acqua è pubblica se poi la gestiscono i privati che possono aiutare i rubinetti o tirare su le tariffe quindi la battaglia movimentista specialmente su questo tema o si crea una maggioranza che cambia la legge regionale e vabbè allora il problema si risolve alla radice ma le chiedo quanto nei prossimi programmi elettorali debba essere incisiva anche la battaglia affinché ci si doti di questo strumento di un referendum che effettivamente possono utilizzare i cittadini perché poi i temi lo abbiamo visto sono trasversali l'acqua pubblica la sanità l'ambiente eccetera poi a un certo punto se la classe politica si scolla tra quello che dice e quello che fa Antonio ha richiamato il valore della coerenza citato da Papa Francesco ma Papa Francesco fa il Papa questi di professione fanno i politici quindi la parola coerenza è difficilmente traducibile quanto è grossa allora questa battaglia è importante è una battaglia importante anche quella sul referendum perché come lei ha detto prima è uno strumento necessario è anche uno strumento di democrazia di consultazione di opposizione a una legge regionale per cui è sicuramente uno strumento importante è una delle tante cose importanti voglio dire che bisognerebbe fare io non ho creato uno schema o non sono entrato in uno schema e non rientro mentalmente in uno schema centrodestra centrosinistra come dire perché lei ha detto delle cose condivisibili da sindaco scusami da sindaco hai fatto delle cose condivisibili importantissime per cui non mi appassiona lo schema centrodestra centrosinistra in questo momento il sottoscritto è tra quelle persone che sta lì e dice io so che non votando è una posizione inutile ma non ci sono in questo momento in questa regione per quando mi riguarda le condizioni per votare allora prima prima questione che pongo allora c'è una questione di metodo qui il problema è che le cose cambiano le persone hanno necessità e voglia di partecipare a quella che è la vita politica di questa regione perché riguarda i nostri destini per cui la politica quella che fino ad oggi abbiamo conosciuto deve anche sapere che deve iniziare a cambiare metodo la partecipazione è una cosa necessaria il confronto è una cosa necessaria perché chi ha l'onere e l'onore della rappresentanza poi deve ascoltare le esigenze dei cittadini per migliorare le condizioni di vita di tutti o va lì per fare altro come abbiamo visto in questi anni ma io non voglio entrare nella polemica ma voglio dire i danni di questa regione non è che partano da cinque anni a questa parte voglio dire cioè è stato devastato il territorio con le paleose su tutta la regione se consideriamo costi e benefici di quelle pale che abbiamo in questa regione voglio dire un po' di responsabilità c'era anche del passato ma a che cosa servirebbe oggi ragionare su o puntare il dito sulle colpe a me non interessa puntare il dito su nessuno a me interessa costruire il presente il futuro ma soprattutto il presente perché io vivo il presente cioè il problema dell'occupazione dei giovani che vanno via da questa regione è il presente voglio dire qualcuno disse nel futuro saremo tutti morti voglio dire per cui parlare oggi del futuro parliamo oggi di quello che possiamo fare nell'immediato partendo dai bisogni dell'immediato dal lavoro anche come gli strumenti che abbiamo a disposizione quando diciamo acqua pubblica e probabilmente gestione pubblica dove andiamo a eliminare una parte di utile che è come dire fisiologico per chi fa impresa quella parte di utile in gestione pubblica può significare miglior servizio più occupazione allora noi su queste cose dovremmo ragionare e su queste cose eventualmente trovare le condizioni in questa benedetta regione di forze sane di forze che hanno voglia di fare e di rimboccarci le maniche per dare una prospettiva a questa regione e io penso che questa regione ha una prospettiva se ha un'autonomia anche ecco perché poi su quel tema sul tema dell'autonomia regionale siamo perfettamente in linea voglio dire ha un'autonomia decisionale cioè voglio dire questa regione riparte se ripartono i comuni perché che senso ha dire noi vogliamo far ripartire questa regione perché abbiamo pensato adesso bisogna pensare su comune che cosa fare mettere in rete menti che pensano sui comuni per avere un progetto provincio per avere un progetto regione noi su queste cose dobbiamo ragionare perché se non si ragiona di questo e si ragiona delle persone se va Iorio se non va Iorio se va Tizio se va Gae non mi interessa a me personalmente tutta questa diatriba non interessa mi interessa capire perché gli errori non è che l'ha fatto solo la politica l'ha fatto anche l'assenza del cittadino se il cittadino assente e voglio dire non partecipa alla vita pubblica la politica fa quello che vuole perché cioè l'attuale governatore ha avuto la possibilità di fare questo sfascio sulla sanità perché nelle piazze ma non un giorno fino a quando il governatore non fa quello che dice i cittadini i cittadini stanno in piazza e lottano e noi queste cose le abbiamo fatto da tempo e chi ci conosce lo sa che abbiamo sempre tentato di stimolare la piazza le persone il confronto abbiamo portato i sindaci in piazza io sono stato tra quelli che ho chiesto al sindaco di Campobasso nel 2015 di venire in piazza a parlare dei cittadini e dire che cosa stava facendo per la città l'abbiamo fatto con allora presidente della provincia l'ultimo De Matteis che si è reso disponibile ed è venuto in piazza cioè voglio dire per provare un dialogo per provare un tentativo di partecipazione perché questa mancanza di partecipazione queste mente addormentate dei cittadini rendono la politica fallace rendono questa pessima politica quando noi vediamo chi va al potere che diventa casta come diceva come diceva lei diventa casta poi a un certo punto si comporta e ha azioni da casta perché manca il controllo perché manca il controllo del cittadino quindi come dire noi da attivisti ci siamo ma anche i cittadini anche i meolisani che devono iniziare ad esserci sul futuro governo di questa regione sulle cose che succedono in questa regione altrimenti qui non cambia nulla Antonio D'Ambrosio Nicola Lanza in chiusura del suo intervento fa riferimento a questo torpore che sembra aver colpito i corpi sociali in Molise ne parlavamo anche prima nel corso del tuo intervento spesso si usa una frase fatta ovvero che la classe politica è il riflesso della società ma in che misura questo è vero in Molise al di là della frase fatta è effettivamente la casta la rappresentanza politica lo specchio della società perché c'è un torpore diffuso manca la capacità di reazione oppure ci sono purtroppo in una regione così piccola come il Molise una serie di condizionamenti che portano tutti quanti ad essere in attesa di qualcosa e a svilire a sminuire a sgonfiare quello che in realtà è l'opinione pubblica che in regioni penso la Lombardia 9 milioni di abitanti si possono invece manifestare liberamente perché c'è diciamo che la rappresentanza degli eletti rappresenta il popolo oramai è una cosa certa però c'è un altro dato che dobbiamo saper leggere il dato di quante persone vanno a votare questo è importante per capire quando più stretta è questa correlazione tra popolo ed eletta oramai siamo arrivati a cifre impensabili per la nostra nazione perché c'è la passione politica c'è la nostra storia c'è la capacità come dire di movimentare le piazze la partecipazione ed era pur rimanendo una stretta correlazione tutto questo faceva sì che si selezionasse anche attraverso i partiti politici un tipo di classe dirigente potremmo criticare però oggi andiamo a vedere che quello che io criticavo negli anni 70 oggi a miei occhi sembrano dei giganti eppure allora non li ritenevo tali però devo riguardare con gli occhi del presente fare un paragone e vedi i danni che pensano all'ego ma stretto e vedi persone che diventano appai giganti quando vai a rileggere dei loro dicomizi delle loro azioni che stavano tutto nell'ambito dell'interesse generale e poi c'era il particolare chi ha fatto meglio e chi ha fatto peggio nel particolare però era presente la battaglia politica gli ideali la storia la cultura ora questo arretramento di questa maggioranza ormai silenziosa che ha fatto un arretramento che in parte è dovuto alle condizioni che dicevo prima che è dalla stanchezza della incapacità del cambiamento perché mancano i presidi di selezione di crescita di classe dirigente quindi c'è un arretramento e quindi un ritiro al privato c'è l'altra parte che ha ingigandito questo arretramento che è la crisi economica che c'è che ha fatto scattare come dire nelle coscienze della gente una prudenza mi sembra adesso è uscito qualche settimana fa anche un'indagine non ricordo da quale ente nazionale di importanza nazionale dove in Italia non è percepito lì legalità due punti voto di scambio il favore al politico l'attesa dell'utilizzo dei fondi pubblici la truffa all'assicurazione la piccola truffa quotidiana per cioè non è percepito come cosa illegale ed è una drammatica condizione che ci troviamo di nuovo un fatto veramente nuovo di come la società è cambiata nell'animo una parte della società è cambiata nell'animo e tutto questo è in correlazione con la classe politica perché non risente o comunque promette e dà con provvedimenti ad hoc o con azioni a volte poco chiare per usare un euemismo addirittura incentiva per il consenso queste pratiche che non sono più tali da essere catalogate dalla coscienza delle persone come illecite o illegali e questo è un dramma per la società ed è un problema serio ritrovare la strada maestra sotto questo profilo e su questa strada maestra adesso abbassandosi quel profilo non essendoci controlli della classe politica non ci sono i partiti non c'è partecipazione non c'è più come apparteneva a noi un sistema di potere di gestione del potere della governance vale a dire mettere insieme i soggetti sociali interessati del problema preparati e capaci spesso perché conoscono almeno la tematica ma c'è il governatore e che la funzione della gestione del potere assoluto asservendo dalle nomine dai collaboratori dai dirigenti asservendo al suo volere è una trasformazione illogica non democratica e quando faccio un'accusa al partito democratico sono stato il fondatore sono dieci anni che sta il partito sono stato il primo presidente del partito democratico in questa regione ho fatto il presidente del partito democratico in questa regione la caduta del partito democratico sta in quella parola democrazia non sa il significato di democrazia quindi quello deve essere un partito dove si deve cancellare la D e rimanere P punto partito e noi ridevamo quando all'università con il mio professore di scienze politiche ci raccontava un luminare il professor Matteucci qualche telespettatore se lo avrà conosciuto l'avrà letto quando ci insegnava all'università che la politica americana che era di due poli partito democratico e partito repubblicano sono due partiti uguali a due bottiglie vuote si riemprivano di contenuti con l'etichetta durante la campagna elettorale e si differenziavano per questo noi ridevamo perché pensavamo che noi eravamo più evoluti di loro perché noi c'era la battaglia politica c'era il dettaglio c'era l'ideale c'era un percorso storico culturale e oggi noi abbiamo superato addirittura quel congetto di due bottiglie vuote c'è il bottiglione del presidente che ha il potere e dove mette tutte là dentro e beve solo lui sembra una metafora a te ti piace non è metafora te l'ho fatto per te quindi quindi questo è la cosa visibile e allora rappresenta sì questa cosa e lo diceva Antonio prima dice non è solo il presidente è un consiglio regionale è una maggioranza sono partite che hanno sostenuto una maggioranza che dovrebbero avere una funzione non l'hanno avuto quindi la responsabilità è sì di chi ha maggiori poteri e quindi vengono assegnate per legge al presidente della regione ma c'è un organismo che aveva il dovere di controllare e di far rispettare norme di fare come dire leggi di fare azioni che non ha fatto in questi cinque anni e quindi la responsabilità maggiore della maggioranza voglio anche togliere questo dubbio però la funzione della minoranza deve essere anche incisiva anche incisiva un consiglio regionale che non ha svolto nella sua totalità con le differenzazioni dovute non ha svolto questo ruolo e si è lasciato che il potere si concentrasse su una persona che ha gestito come meglio gli pareva e piaceva e quando dico Antonio politica di destra torniamo sul serio non è un'offesa a voi perché io per esempio io sono stato con Michele Iorio so perfettamente le battaglie che insieme abbiamo fatte per l'acqua pubblica anzi noi siamo stati meravigliati che è stato lui Italo di sabato che addirittura come dire lui e Italo vederli ragionare sulla banca pubblica faceva una gara chi era più per queste cose sotto certi profili non è questo ma io parlo ma io parlo adesso di un rapporto nuovo perché forse il bagaglio che abbiamo noi intendiamo centrodestra e tu ti sei sentito un po' coinvolto in questa mia azione io parlo del nuovo capitalismo cioè sul nuovo capitalismo c'è destra e destra bisogna voglio dire no come c'è giustamente sinistra e sinistra non ti puoi sentire coinvolto le politiche che ha fatto frattura sono politiche che rappresentano questo neoliberismo ora se tu non lo sei e segui la corrente del Papa Francesco da Cattolico sono contento perché lo so ma non puoi negare che questo neoliberismo ha creato vostri e frattura rappresenta uno di questi mostri del neoliberismo ma di fatti io lo condanno e punto ma hai fatto bene a difendere e sono nella posizione giusta per condannare hai fatto bene perché hai fatto atti in tal senso è certo nessuno te lo disconisce però non puoi riconoscere che sul piano non solo intellettuale ma pratico questo neoliberismo questo nuovo capitalismo finanziario senza volto dice Papa Francesco dove l'uomo è merce bene frattura ha operato secondo questi canoni questo è la questione politica vera perciò aggiunta le cose che abbiamo aperto questo è stato il disastro e va cambiato poi aggiungo non per Michele perché se qualcuno quando parlavo ieri entrava in consiglio regionale ad ascoltarmi era proprio Michele Iorio che ha uno stile oggettivamente signorile e di rispetto però porre la questione ancora oggi politicamente Michele era meglio di frattura e lo è stato meglio di frattura nonostante i risastri che si ricordavano e lo è stato è una riproposizione vecchia di uno schema che non regge più per il molissimo ma non per lui è perché oggettivamente sicuramente ci fanno discutere su due cose che non hanno più motivo di essere per i cambiamenti che ci sono stati ecco qual è la mia idea e quindi necessita questa regione di uno scatto in avanti oltre non perché vecchio non perché come dire superato non perché non sappia non perché non conosca la macchina amministrativa io sono contro questi giovanillismi senza capo e senza coda però il problema è riproporre alla società molisana una storia già conosciuta non è una buona azione penso e credo che altri pensano è la mia opinione e penso che questo sposterà e non me ne rammarica non per qualcosa sposterà forse i consensi su un'ulteriore forza che chiede il rinnovamente totale che è quella di 5 stelle e questa è l'ipotesi che noi ci troviamo oggi davanti detto oggettivamente è chiaro che ci sia anche una quarta ipotesi nel frattempo può darsi che si costruisca una quarta ipotesi se diciamo le soluzioni sono queste diciamo io sono molto preoccupato si no ma su questa cosa che dice Nicola si sta lavorando per fare una quarta ipotesi si sta lavorando però se la quarta ipotesi deve prendere come siamo partiti dalla trasmissione deve prendere atto che è un'azione trasversale e Michele mi chiamo Michele perché abbiamo lavorato per 15 anni insieme e anche prima è lui la persona che deve incarnare questa nuova opportunità ma vedete a me a votare a Michele Iori e a fare la campagna di topo a Michele Iori allora non si può fare questa cosa lo inviteremo ben volentieri una sera Michele Iori perché giusto lo abbiamo già avuto ospite e lo inviteremo nuovamente con molto piacere perché il dibattito che si è sviluppato questa sera ripeto il tema era questo partiti o movimenti in proiezione delle elezioni regionali del 2018 un tema che appassiona come abbiamo ben visto perché poi che cosa si scopre che al di là di quelle che sono le sigle vi sono dei terreni comuni abbiamo parlato di sanità abbiamo parlato di acqua pubblica abbiamo parlato di ambiente di Brino uomo sicuramente di centrodestra che però nella sua esperienza istituzionale ha posto in essere degli atti concreti ricordiamolo sia sul piano istituzionale l'istituzione del referendum sul piano dell'ambiente sul piano dell'acqua pubblica temi che però di Brino lo propongo anche per una medaglia perché è stato il sindaco che ha impedito la costruzione della centrale a biomasse la famosa Biocom ma al di là della battuta abbiamo visto che su temi concreti anche esperienze marcatamente di sinistra come quella di Nicola Lanza si ritrovano come si ritrova anche la storia personale di Antonio D'Ambrosio perché adesso noi lo vivi come dire lo ascoltiamo tutte le sere a Millibar ma Antonio ha un'esperienza istituzionale è stato consigliere regionale è stato presidente del consiglio regionale è stato un militante del partito comunista è stato sindacalista con dei ruoli importanti credo segretario regionale se non sbaglio quindi insomma al di là delle conversazioni che ci facciamo e che ci piace fare qui a Millibar c'è un retroterra ci sono delle biografie personali che hanno un certo peso e che dovrebbero fare la differenza al di là dei partiti e al di là dei movimenti abbiamo ascoltato anche questa accusa mossa a frattura di aver fatto delle politiche di destra però attenzione la destra va da Regan e dalla Thatcher a Giano Accame o Pino Rauti ce ne sono tante ce ne sono tante diverse abbiamo fatto cenno alla destra sociale che era un tipo di destra che aveva come prima parola solidarietà e che vedeva l'uguaglianza degli uomini nei punti di partenza e non nel punto d'arrivo come magari con un errore storico è stato fatto a sinistra ma al di là di questa piccola rievocazione dal carattere auto biografico la discussione che c'è stata stasera è stata molto interessante ritorneremo nuovamente su questi temi io ringrazio Antonio Di Brino segretario regionale direzione Italia ringrazio Nicola Lanza che spero di avere nuovamente ospite di lavoro di laboratorio progressista ringrazio Antonio D'Ambrosio perché nonostante la sua partecipazione costante a Millibar ogni volta riesce a mettere degli elementi nuovi in questa trasmissione di riflessione e questa sera ha animato anche come dire in maniera forte forte la conversazione ma questo è importante perché dà il segno di come più si avvicini la data delle elezioni e più ci si appassioni a quelli che sono i temi che ci auguriamo possano dare una svolta a questa nostra regione noi ritorniamo puntuali con Millibar il mercoledì alle ore 21 e lo ripeto da qualche settimana la replica non è più il giovedì alle ore 16 ma bensì il venerdì sempre alle ore 16 da me e da Alessandro Nardella da Termoli a tutti voi buonanotte e buona fortuna e buonanotte Grazie a tutti. Grazie a tutti.